Con la firma del lato davanti al notaio, la Regione Toscana ha costituito formalmente la FAF, acronimo della Fondazione Alinari per la Fotografia. La nuova fondazione gestirà il patrimonio Alinari, migliaia di fotografie negativi sull'astra, apparecchi fotografici, costruito nell'arco di due secoli dai fratelli Alinari, fotografi fiorentini. Sì, è l'operazione di politica culturale più importante che abbiamo fatto nel corso degli ultimi cinque anni, abbiamo acquisito il patrimonio, abbiamo individuato gli spazi dove poter allestire e conservare questo patrimonio e consentirne la visita e attraverso poi la fondazione anche lo strumento che dovrà governare e gestirlo. L'obiettivo nostro è di costruire uno strumento giuridico come una fondazione che porti alla gestione di questo patrimonio, alla valorizzazione e alla costituzione di un centro di ricerca e poi anche di un museo. La regione ha individuato anche un amministratore unico per la nuova fondazione, nel dirigente regionale Claudio Rosati, già responsabile del settore musei della regione. Io dovrò traghettare, sarà il mio un compito di pochi mesi, dovrò traghettare questo momento alla piena efficienza della fondazione quando avrà tutti i suoi organi a partire dal consiglio di amministrazione e del direttore. Grazie a tutti.